Regione Salento, dalle idee ai fatti, è quanto si augurano tutti coloro che sono favorevoli a questo movimento culturale di crescita del territorio che raccoglie le risorse di Brindisi, Lecce e Taranto. Oltre agli spunti di riflessione e momenti di dibattito c'è di più. C'è la volontà di credere e mettere in pratica un progetto che dia dignità a questa terra spesso trascurata persino dal suo stesso governo regionale. Da questi presupposti parte il consenso del consigliere regionale del PDL Maurizio Friolo. Adesso oltre all'ipotesi della Regione Salento bisogna rendere questa idea più concreta e quindi con la sostanza. Quindi Friolo in base alla sua esperienza di consigliere regionale conferma la tendenza del governo regionale a privilegiare Bari. Ritengo che c'è troppa baricentricità, soprattutto con il governo Vendola. Quando la Regione ha molte attenzioni a Bari e meno attenzioni ad un Salento che è a detta di tutti, anche degli stessi baresi, il motore trainante della Puglia e poi però i fondi, le attenzioni e gli investimenti non si riescono a fare mai in questo Salento che ha delle potenzialità eccelline. E sul referendum popolare poi dice... Il referendum è uno strumento democratico che la nostra Costituzione garantisce e ritengo che la gente si debba esprimere, non soltanto chi ha il privilegio come me, di rappresentare tanti elettori, ma è giusto che personalmente lo possano fare, visto che la legge prevede questo strumento di democrazia importantissimo. Io mi auguro che si può...